ciao a tutti ragazzi io sono maki ed eccoci qui con un nuovo video è uscito il trailer del nuovo staff pack che riguarda appunto il fitness lo sport eccetera eccetera non l'ho ancora visto quindi adesso lo vedremo insieme come al solico al solito lo analizzeremo sono gasatissima lo analizzeremo e vediamo un po che cosa aggiungeranno di nuovo quindi senza ulteriore indugio io direi di guardarlo quindi mettiamo play no 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 wow ok hanno aggiunto visto tante cose innanzitutto già da qui posso vedere i capelli che sono nuovi e sono molto particolari io spero vivamente che aggiungano una versione senza questo effetto sfumato però ne dubito perché anche con i capelli di vita da genitori non l'hanno fatto però mi piacciono molto poi vedo anche questi vestiti sono nuovi e poi aspettate che metto muto e poi c'è questa cosa ragazzi che è per scalare è fantastico la vedo sempre nei film questa cosa bellissimo poi vedo qua questo divano e lo adoro e questo tappeto e adoro anche quello cioè bellissimo bellissimo ok qua c'è la scritta allora lei ha sicuramente un nuovo una nuova tuta i capelli credo ci siano già nel gioco quindi non sono nuovi forse questo è un nuovo tapirulan e queste sono delle nuove finestre cioè qua praticamente lei sta facendo aerobica tipo non lo so si sta allenando comunque davanti la tv questa cosa è bellissima perché c'era già nei giochi precedenti cioè bellissimo poi qua questa mi sembra una nuova libreria queste sembrano delle nuove luci e questo è un nuovo quadro però non mi vorrei sbagliare cioè bellissimo che fa che fa aerobica allora vediamo questo mi sembra un nuovo scaffale il lampadario no che bello ma che bello questo lampadario la finestra questa è un nuovo una nuova macchina per gli attrezzi cioè questa è di nuovo la scalata e si può fare in tanti modi quindi può stare ferma poi si può muovere può avere delle difficoltà cioè delle aspetta aspetta ferma 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 no riprendi tutto cioè wow il tavolino quest'altro tavolo il tappeto le poltrone il tavolo e le sedie mi pare di capire che questo lampadario comunque è a diverse altezze la porta ragazzi la porta è bellissimo no 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 bellissimo questo tappeto non so se sia nuovo però cioè sembra nuovo però non ne sono sicura qui vedo un sacco di nuovi vestiti peraltro i capelli ragazzi che belli adoro anche i suoi e come vestito ma prima non ci ho fatto caso onestamente se c'erano sì dei nuovi vestiti mi sanno molto di futuristici ma queste sono pure nuove sedie no ma è una cosa fantastica cioè è bellissimo tutto ciò allora qui ci sono altre pure finestre ci sono queste che sono a due mentre quella è più stretta questa qua l'appendiabiti cioè per tipo le tovaglie bellissimo non mi dire non mi dire che questa è una nuova vasca idromassaggio cioè no idromassaggio una nuova vasca da bagno la nuova doccia il nuovo lavello ma bellissimo questo mi sembra un nuovo arco però non ne sono sicura questi non so cosa siano ma sono bellissimi e questo io amo tutto di questo no mi piace troppo sta cosa non so cosa sia questo secondo me è un nuovo oggetto tipo deodorante o qualcosa del genere no ma aspetta 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 fammi vedere qua se ho perso qualche cosa una nuova pianta ti stavo perdendo bella qui ok questi li abbiamo già visti e qui anche questi abbiamo già visto tutto ok si qua lei sta impostando la difficoltà forse uh questo è difficilissimo ok vediamo un po' ma hanno guardate ste cose nelle orecchie sembrano tipo gli auricolari quelli per parlare senza dover prendere il telefono per forza o forse sono gli auricolari proprio per la musica ma sarebbe bellissimo c'è c'è fantastico ragazzi allora sì questa è la scalata praticamente poi vediamo un po' qui che abbiamo ok nuovi vestiti sì sono auricolari bellissimo bellissimo guardate quanti vestiti nuovi ma no ma fantastico fantastico no ragazzi questi capelli sono bellissimi cioè io mi rifiuto io mi rifiuto sono bellissimi non so perché ma ce li vedo a jordan quando sarà adolescente non ho idea di come sarà jordan da adolescente però io ce la vedo con questi capelli cioè bellissimo ok nuovi oggetti sì li abbiamo visti tutti sì questa è una nuova vasca ma bella ok c'è può allenarsi davanti alla tv sarà disponibile il 20 giugno praticamente tra poco quando è ah no non tra poco però no bellissimo ma io non vedo l'ora tra 12 giorni circa non vedo l'ora sono esaltatissima per questo game per questo staff pack scusate costerà 10 euro praticamente 9 euro e 99 ed è fantastico cioè io devo averlo subito io devo averlo subito bellissimo non vedo l'ora sono già pronta con la mia post pay a comprarvi questo game questo staff pack perché lo chiamo game pack lo adoro bellissimo beh adesso fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo staff pack se a voi piace se avete intenzione di comprarlo oppure se volete aspettare magari qualche sconto e direi che è tutto quindi noi ci vediamo in un altro video io vi mando un bacio enorme vi ricordo di mettere mi piace di commentare di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao